Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza lo ha detto più volte, la città ha il vento in poppa. Un vento che oggi si è fatto sentire, seppur senza dimostrarsi funesto. Quel tanto che è bastato per posticipare lo spettacolo dei paracadutisti e complicare il loro atterraggio. Ma il punto sottolineato dal sindaco è un altro. Se infatti la settimana della barcolana offre un maggior rilievo per la città, tutte le altre attività che Comune, Regione e altri enti stanno portando avanti sono, secondo il sindaco, segnali importanti di sviluppo, a cominciare dalla visita di ieri a Vienna. E' incredibile come siamo riusciti a lanciare questa città come immagine. Adesso abbiamo la barcolana che è stato anche uno dei motivi di questo rilancio e sono molto soddisfatto. Eravamo col presidente dell'Unido che è un cinese che conosce perfettamente Trieste e non c'è mai stato, naturalmente l'ho invitato. Barcolana, credo che sarà un successo, il bel tempo è assicurato, speriamo che ci sia un vento adeguato, sarà una grande festa per la nostra città e come sempre un cinquantesimo indimenticabile con le frecce tricolori che al momento della partenza sorvoleranno, credo, più di 2.000 imbarcazioni. Beh, è una bella emozione. Oggi abbiamo le riunioni in prefettura per il Presidente della Repubblica. Il calendario del sindaco è incredibile. Questo è il momento, però è un momento da accogliere e anche con tutti i cantieri, con tutto quello che stiamo facendo. Insomma, è un momento buono, di grande lavoro. D'altra parte, dopo due anni di lavoro, stiamo raccogliendo i risultati. E proprio rispetto all'ultima trasferta, Di Piazza rimarca un concetto. La qualità della vita a Trieste viaggia a livelli invidiabili. Sono passato per la Slovenia, le autostrade sloveni incasinate. Sono passato per l'Austria, le autostrade austriache incasinate. Viena, gente che dorme di notte e dappertutto. Dico a chi si lamenta, andate un po' in giro oltre Mo Falcone, no? Guardate Parigi, guardate Vienna, guardate Monaco, guardate cosa succede in altri paesi. Non è che per questo dobbiamo bearci, però la qualità della vita a Trieste è straordinaria. E che dice l'incontrario mente. Grazie.